Tappa ternana per il sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni in visita ieri in Umbria. Incontro in prefettura con il prefetto Emilio Dario Sensi, con il questore Bruno Failla e il sindaco Leonardo Latini. Sul tavolo i temi scottanti della sicurezza e del controllo dei fenomeni criminali. Altissima l'attenzione verso un fenomeno di criminalità e di illegalità grave che è lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti. Quindi rimane altissima l'attenzione del Ministero e quindi anche dei territori rispetto alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. A quasi un anno dalla morte per droga di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi Peralta, a Terni è ancora allarme spaccio. Anche per questo, ha annunciato il sottosegretario Molteni, è in arrivo un rafforzamento di organico della Polizia di Stato presente in città. E nuove risorse saranno presso a disposizione dei comuni per potenziare sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio, a partire dalle vie della Movida. A luglio arriveranno cinque agenti di polizia, tre alla questura, due alla stradale su un percorso di potenziamento degli organici e delle forze dell'ordine che ormai è una costante di qualche anno. La logica del potenziamento del controllo del territorio va esattamente in questa direzione. Sia il fenomeno dello spaccio sia il fenomeno del traffico, sono fenomeni di illegalità che stanno toccando i territori, che stanno soprattutto toccando le fasce più giovani. Vi dico tolleranza zero verso lo spaccio. Grazie.